C'è il disagio di sempre che può succedere, che quanto fanno, si dice, sono stata graziata ma c'è un po' un giro e penso che tante case sono state toccate come dappertutto. E' nuovamente allarme furti nel Cortonese dove si è registrata una scia di colpi. L'ultimo episodio lo scorso venerdì quando i banditi sono entrati in un'abitazione di Viaggino Severini poco fuori dalle mura del centro storico di Cortona. Qui non c'è nessuno, capito? Tutte persone di una certa età, se si spaggia la voce che sono anziani, una cosa e l'altra, vengono perché cosa gli fai? Un po' preoccupati siamo perché, ha visto? Io sto sempre in casa, non è che vado a giro tanto, però in quei momenti che vado a fare la spesa un po' di problemi ci sono. I malviventi indisturbati hanno messo a soccuadro le stanze alla ricerca di oro e preziosi, poi hanno portato via alcune bottiglie di vino pregiate, hanno mangiato qualche biscotto ed infine si sono dati alla fuga. Sono ritornate alle due dal lavoro e hanno trovato la finestra, insomma che erano entrati in casa, quello che hanno trovato hanno portato via, ma insomma poca roba, ma il disagio tanto. Misero il bottino poche centinaia di euro, ma cresce la paura dei residenti della zona, recentemente presa di mira in più occasioni. È sempre un problema di tranquillità personale, che quando si sa che gente entra in casa, anzi che per quello che so io, queste zone entrano quando non c'è nessuno. Già questo è positivo, però mi è successo anche a mia socia che mentre si rientrava avevano rubato poca roba, perché tanta roba qui non c'è, però il problema è come risolvere questa situazione. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Cortona.